lo prendo lo prendo lo prendo lo prendo lei è matto è un pazzo scatenato sono sempre io sono sempre io ascolti sarà bene non è che mi fotte tutto e che cazzo no questo andiamo giù insieme che schifo solamente un hack o se ti rende conto che lei mi avrebbe ucciso ora se fossimo contratti io contro lei sono gente sotto non lo so ma sono in due due arrivo 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 mi segua mi segua che ho trovato gli sprucini qua guardi guardi dietro si copra si copra non so cosa dire due le uccisi qua c'è ancora uno dietro è one shot è one shot qua c'è un combat e ce l'ho ce l'ho ce l'ho al combat le cazzo è sta merda bravo è stato per questo le lascio il nonno verde non se lo gradisce uno è quasi bianco sono di fianco è morto bravo ci sono medici per lei stava sparando a me lei è entrato di fianco buono buono ti va bene figlio di puttana che tua madre è andata a fare i bocchini ti è andata bene non è non sono italiani questo da me si è sempre lui che ne sa lei perchè ha sempre la stessa skin ma che significa chi cazzo è che usa questa skin che c'ha questo non mi dica che non è italiano dai usa sempre quella skin non credo però non erano malvagi madonna però gli ho fatto tre volte 30 o 60 ma la stilata di veramente questo porco giuda non va giù non va giù figa questo non dice nulla si porta a casa la chi si è silenziosissimo a me sta bene ce l'hai il pump blu si ce l'ho ce l'ho soltanto che mi ha rischiato di farmi morire ogni secondo di questo fight no 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 cosa che lei pensa che non può assolutamente provare davvero non posso provare quindi ha capito sono non esagerà i cdc lo vedo una madre bravo se ne hai uno sotto e uno sotto sto arrivando anche io da te morto bravo andiamo in safe merda non ho i deltaplani allora lei quante ne ha 3 di tutto no ne ho 11 tra poco 12 no 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 c'è uno di vita c'è uno di vita sto arrivando sto arrivando sto arrivando hey what's up bro deltaplani siete servono sì sì non essendo io bravo ho preferito dare il massimo l'abilità io gioco con tutto il medico ok ho visto ho visto almeno i ragazzi vedono tutto più figo ho messi bene comunque ragazzi sempre 55 56 gradi sul mio computer alla grande dopo di questo gioco con gli abbonati ragazzoni non preoccupatevi siamo in 11 anche se un po mi dispiace smettere di giocare con le festone però oh c'è un distributore qua immagino che lui ci sia stufato di fare questo no io non mi stufato non faccio cose che non mi piacciono sono contento oh gente qua da me mi è caduta la banana ma lei sta lontanissimo da me lo sa no è lei che sta lontanissimo da me no no è lei che sta lontanissimo da me confido in lei confido in lei eh non lo so sicubi sicubi resista il più possibile anche se muore uguale resista resista vidi in ferro in ferro in ferro diamantato mi fa roba tutto il cerco di buildare più resiste meglio è ci stiamo cechinando dove sta questo? ok non lo so è lì dentro morto molto bene avvocato si chiama questo come il avvocato avvocato ne vedo uno bastardo ha preso la jump questo è 3 blue ok dove sta la jump è sciato per un millimetro ho premato qua eee ho messato un e nooo non mi metteva al pavimento ce l'ha fatta? è ancora vivo? è ancora vivo? arrivo nella torretta di fronte a 79 c'è un medikit qua si perchè io sono uno di vita arrivo? due medikit sono buono buono così raga buono così torca miseria guarda che roba là uno di vita raga what the fuck e qua è difficile anche passare no non ti preoccupi senza io bello questo timing però eh è quasi emozionato si è emozionato ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia ho fatto un timing assurdo nel nel primo colpo di pump un 39 fantastico nel secondo e poi l'hai più di tre potenza col ferro però non ci ha capito un cazzo gg è festo v3 attenzione è un pazzo raga si è vero irene grazie minca non l'ho dimenticato oh brutto questo figlio di troia c'ho troppe troppe cose che non dovrei avere in alimentario si si tipo quale effetto è piaciuta questa tampata? questa fa paura eh io sto guardando senza dire niente perchè sto godendomi il momento ma io pre sotto qua di fianco ti fai questo no? non posso fare questo 21 kill continua a fare 21 kill ogni partita ecco se non ne fa 21 ne fa 16 pure l'ha tirato troppo basso quello secondo me siete 1v1v1 eh si si no levi il secondo me siamo 1v1v1 oh 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 figlio di puttana ah puttana il tipo ha preso la traccia la forse vabbè non ho preso la kill di quella ma non ci interessa non ci protegge? da dove? non lo so c'è un tipo che penso sia shot no? no è morto l'ha ucciso quello purtroppo non riesco a ammazzare lui il tío e direi che è tutto tuo questo poi si corre dietro quello ha fatto un quadrottile e questo ha fatto un palazzo non è morto non è morto non è morto non è morto bene ero morto no riassi complimenti heppe grazie grazie è un campione applausi per fstone 59